Le prospettive di recuperare i corpi dei cinque passeggeri che erano a bordo del sommergibile imploso nell'Atlantico del Nord, vicino al punto in cui si trova il relitto del Titanic, sono scarse. Per ora non si conoscono le cause dell'incidente, ma le squadre continueranno a cercare, come spiega John Mugger, comandante del primo distretto della Guardia Costiera statunitense. Il sottomarino è consistente con un'implosione catastrofica del sottomarino, quindi continueremo a lavorare e a cercare l'area, ma non ho una risposta per i prospettivi a questo momento. Secondo i media statunitensi, uno strumento top secret della Marina, che rivela e monitora i sottomarini, ha registrato un segnale acustico che potrebbe essere il suono dell'implosione del Titan, avvenuta domenica, il giorno della sua scomparsa. I passeggeri erano il miliardario britannico Hamish Harding, un padre e un figlio appartenenti a una delle famiglie più ricche del Pakistan, l'oceanografo David Mears e l'esperto francese di naufragi Paul Henry Narjolet.